Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. L'avvicinamento di una goccia fredda accentua l'instabilità sulla nostra penisola. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per venerdì 27 maggio. Molte nuvole in transito al mattino ma con locali piogge solo tra Piemonte e Lombardia e sulla Sardegna. Al pomeriggio temporali sparsi informazione sulle Alpi ma anche sulle zone interne del centro sud e sulla Sardegna, localmente anche intensi, generalmente più asciutto lungo le coste. In serata e nottata ancora fenomeni possibili su Triveneto, Abruzzo, Molise e Sardegna, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime in ulteriore rialzo al centro nord ed in lieve calo al sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra app meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.